Ciao, sono Elena, ti do il benvenuto in questa reazione di Pilates Full Body per allenare tutto il corpo. Includi questa pratica nella tua routine quotidiana per prenderti del tempo solo per te e sentirne tutti i benefici. Iniziamo! Mettiti in posizione seduta, le mani sulle tue coste, chiudi gli occhi, inspira profondamente dal naso. Vai ad allargare la tua gabbia toracica. Ed espira dalla bocca. Inspira. Ed espira. E di nuovo l'ultima, inspira. Senti come si espande la tua gabbia toracica. Ed espira. Senti le coste che si avvicinano tra di loro. E adesso vai a portare un braccio sopra di te, allineato al tuo orecchio. E vai ad allungarti. Allungati più che puoi. E dall'altro lato. Il braccio è allineato al tuo orecchio. Non è né più avanti né più indietro. E l'ultima. Allungati più profondamente. E torna. Adesso vai a mettere le tue mani sulle tue ginocchia. Andiamo a fare delle circonduzioni del busto. Ispira. Guarda, dico un bellico. Ed inspira il petto in avanti. E di nuovo. Ispira. Ed inspira. Andiamo a sciogliere tutte le tensioni. Adesso nel verso opposto. Ispira in avanti. Cerca di fare dei movimenti più fluidi possibili. Ispira. Perfetto. Ed inspira. Curva la tua colonna. E torna al centro. Adesso vai ad incrociare le mani. Vai a distendere le braccia sopra di te. Cresci in alto. Ispira. Ed espirando. Braccia lungo il corpo. Bene, adesso andiamo a metterci sul tappetino in posizione laterale. Vai a mettere le tue mani sotto le tue ginocchia. E qui espira. Vai a distendere le braccia. Guarda che non vi dico. Inspira, torna. E di nuovo. Espira. Le ultime tre. Iniziamo ad attivare la cintura addominale. Due. E uno. E qui vai a scendere con le mani sotto le tue cosce e una vertebra dopo l'altra scendi a terra. Adesso vai a mettere le tue mani sulle tue cresce via che le ginocchia sono unite tra di loro, piedi uniti. Vai ad inarcare la tua zona lombare. Ispirando ed espirando ed espirando in retroversione del bacino vai ad appoggiare la tua zona lombare al tappetino. E di nuovo. E di nuovo. Inarca ed espira. E brevi la zona lombare sul tappetino. Adesso tra queste due posizioni estreme vai a trovare un punto centrale. Quella è la tua posizione neutra. Mantienila per tutti gli esercizi. Adesso qui vai a sollevare una gamba in tabletop. Le braccia sono distese davanti a te, parallele tra di loro. Espira. Sollevati fino alla punta delle scapole. Vai a fare tre battuti di braccia. 3, 2, 1. Ed in espira torna. E di nuovo per otto ripetizioni. Espira. 3, 2, 1. Espira. Guarda in ombelico. Le ultime tre. L'ultima. Resta qui in posizione. Con la punta del piede vai a sfiorare il tappetino. E poi torna con la gamba in tabletop per otto ripetizioni. 8, 7, 6, 5. Guarda, io l'ombelico. 3, 2, 3, 2, 3, 2. Il mento è alto. 1. E torna con la gamba e torna a terra. Stessa cosa dall'altro lato. Gamba in tabletop. Ispira. Ispira. 3, 2, 1. Ispira. Torna. Ispira. Le ultime due. L'ultime due. Resta qui. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E torna a terra. Adesso alza una gamba in tabletop. Alza anche l'altra. Vai ad unire le ginocchia. Mantieni questa posizione. Andiamo ad attivare gli adduttori delle nostre gambe. E qui. Ispira. Vado a fare 5 battute di braccia. Ispirando. 5, 4, 3, 2, 1. Questo è il ritmo. Ed altre 5. Ispirando. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ispira. 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 Guarda l'ombelico. Andiamo a lavorare con gli addominali. Continua. 5, 4, 3, 2, 1. L'ultima serie. Solvidi. 5, 4, 3, 2, 1. E torna con le gambe a terra. E torna con il busto a terra. Benissimo. Adesso vai a portare le gambe unite leggermente più avanti. E qui le mani sotto le tue cosce. Espirando. Vai a sollevarti. Cerca la rotondità con la tua schiena. Ed ispirando. Torna. E di nuovo. Ispira. Per 6 ripetizioni. Ispira. Torna. Ed ispira. Cerca di non sollevare i piedi dal tappetino. Quando ti sollevi. E torna. Ispira. E ispira. Sollevati una vertebra dopo l'altra. Le ultime due. E ispira. Ed ispira. Torna. E l'ultima. Ispira. Forza negli addominali. Ed ispira. Ispira. Torna. Adesso vai a distendere una gamba. E fai uno slancio verso di te con il piede puntato. Per 8 ripetizioni. 7 Ispira. 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 3 2 1 Adesso resta qui e vai a flettere e puntare. Fletti e punta. Fletti e punta il piede. Andiamo ad allungare la catena cinetica posteriore. La gamba è ben distesa. Fletti e punta. Fletti e punta. Resta con il piede puntato. Vai a prendere la gamba. Portala leggermente verso di te. Adesso andiamo a fare delle circonduzioni espirando per mezzo giro ed ispirando per l'altra metà. Per 5 ripetizioni. 3 Ispira. Ispira. 2 Ispira. Ispira. 1 E dall'altro verso. 5 4 Ispira. Ispira. 3 2 Ispira. 1 Gambe in table top. Torna. Stessa cosa dall'altro lato. Distendi la gamba e slancia indietro espirando. 8 7 Distendi bene la gamba. 5 4 3 2 1 Fletti e punta. Fletti e punta. Andiamo ad allungare. Adesso resta con il piede puntato. Porta la gamba verso di te. Mi raccomando il bacino resta ben saldo a terra e vai a fare delle circonduzioni. Il bacino resta stabile. 5 in un verso e 5 nell'altro. Ispira. 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 Le ultime 2 E 1 E dall'altro verso. 5 4 3 2 E 1 Gamba in table top. Torna a terra. Bene, adesso andiamo a sollevarci nuovamente. Metti le mani sotto le tue cosce. Ispira. E sollevati. Adesso andiamo a metterci un po' più all'estremità del tappetino. Vai a mettere le tue mani sotto le tue rotole. Vai a cercare rotondità con la tua schiena. Vai a creare una C curve, una C maiuscola con la tua schiena. Le braccia, i gomiti sono larghi. Vai a portare le ginocchia verso di te. Risucchia dentro l'ombelico. Attiva la cintura addominale. Solleva i piedi. Vai a puntare i piedi. Mantieni questa posizione. Gli addominali sono forti. E andiamo indietro. Rotolando. E tornando dritti. Senza andare ad appoggiare i piedi sul tappetino. Mantieni il contatto nello sguardo con l'ombelico. Le ultime due. E due. E torna. Bene. Adesso di nuovo mani sotto le ginocchia. E scendi lentamente una vertebra dopo l'altra. A terra. Benissimo. Vai a mettere una gamba in table top. E andiamo a distendere. Distendi. Per otto. Dispira. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Ed uno. Adesso l'altra gamba. Table top. Espira. Otto. Sette. Il piede è puntato. Sei. Cinque. Distendi bene. Tre. Due. Ed uno. E torna. Adesso vai a sollevarti. Porta un ginocchio al tuo petto. Le mani sono sotto le ginocchia. E qui vai a fare uno switch con l'altra gamba. Per otto. Sette. Sei. Lo sguardo all'ombelico. Cinque. Quattro. Tre. Due. Ed uno. E torna. Adesso andiamo ad unire questi ultimi due esercizi. In un unico esercizio. Quindi vai ad espirare. Porta un ginocchio al tuo petto. L'altra gamba in table top. Distendi la gamba. Andiamo a fare uno switch. 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 Il respiro irregolare. Switch. Le ultime tre. Due. Ed uno. E torna con le gambe a terra. Bene. Adesso vai a portare una gamba in table top. Anche l'altra. Vai ad unire le gambe. In table top. E qui vai a distendere. Mantenendo le ginocchia ben unite. Vede. Espira. Espira. Distendi. E l'ultima. Bene. E torna a terra. Adesso vai a sollevarti. Porta entrambe le ginocchia al tuo petto. Vai con le mani sulle caviglie. Andiamo a fare questo movimento di braccia. Indietro allineate al tuo orecchio. Ed espira porta in avanti. Vai ad abbracciare le tue gambe. Guarda di l'ombelico. Resta sollevato. A terra. Le ultime tre. Due. E uno. E torna con le gambe a terra. Di busta a terra. Adesso andiamo ad unire questi due esercizi. Quindi vai a portare entrambe le gambe in tabletop. Vai a sollevarti. Porta le ginocchia verso di te. Vai a raccogliere le ginocchia. Le mani sono sulle caviglie. E adesso qui. Quando distendi indietro le braccia. Vai a distendere anche le gambe. I piedi sono puntati. E poi torna a raccoglierti. Per otto ripetizioni. Sette. Guarda che l'ombelico. Sei. Mantieni il mento alto. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. E adesso torna a terra. Vai a decomprimere la tua zona lombare. Fai tre circonduzioni. Inspira ed espira. E adesso torna con le gambe a terra. Andiamo a fare un bridging. Vai a mettere i piedi paralleli tra di loro. Alla larghezza delle anche. Vai a sollevare la punta dei piedi. Mantenendo l'appoggio esclusivo sui tuoi talloni. Vai a risucchiare all'interno. Nell'ombelico. Verso la colonna vertebrale. Attiva la cintura addominale. Qui in retroversione del bacino. Espira. Sollevati. In bridging. Senti i glutei che lavorano qui. Inspira. Torna. Ma non appoggiare i glutei a terra. Perché espirando vai subito su. Inspira lentamente. Scendi ed espira subito. Su. Facciamo questo esercizio per dieci ripetizioni. Senti i glutei che lavorano. Le ultime tre. E l'ultima resta è qui. Dieci pulsazioni. Dieci. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. E scendi una vertebra dopo l'altra a terra. Bene. Adesso facciamo un'altra serie perché i glutei ci piacciono molto. Quindi di nuovo. Espira su. Dieci. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Espira. Tre. Due. Uno. Pulsazioni. Dieci. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. E torna. Giù. Adesso lavoriamo con una sola gamba. Quindi riporta le piante dei piedi a terra. Con una gamba in tabletop. Il piede in questo caso è a martello. Espira. Su. E su. Cinque. Quattro. Tre. Non poggiare i glutei a terra quando torni. Due. Uno. Resta. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Il piede a terra e torna lentamente. Bene. La stessa cosa dall'altro lato. Quindi il piede a martello. Gamba in tabletop. Espira. Dieci. E su. E su. E sette. E sei. E cinque. E quattro. E quattro. Due. Uno. Resta. Pulsazioni. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Gamba a terra. E torna lentamente a terra. Una vertebra dopo l'altra. Bene. Porta le gambe al petto. E andiamo a decomprimere la zona lombare. Inspira. Ispira. Rilassati. Bene. Adesso. Metti le mani sotto le tue cosce. e di nuovo attiva la cintura addominale. E espira. Sollevati. E torna in posizione seduta. Andiamo a metterci a carponi. Quindi le mani sono sotto le tue spalle. Le ginocchia sotto. Le tue anche. Vai a puntare i piedi. I piedi fanno grip sul tappetino. E adesso qui, facendo forza sulle mani, vai a sollevare le ginocchia di un centimetro. Non oltre un centimetro per dieci secondi. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Torna con le ginocchia a terra. Vai a portare le ginocchia leggermente più indietro. Non andare a spostare le tue mani. E adesso qui vai ad allineare il tuo bacino. Ed ispirando. Fai dei push up. Tre. Due. Ed uno. Torna con le ginocchia sotto le tue anche. Andiamo a fare un cat stretch. Inspira in arca. Ed ispira in retroversione del bacino. Inspira. Apri il petto. Ed ispira. Vai a sederti sui tuoi talloni. Porta le mani in avanti. Vai ad allungare la tua schiena. Stiamo per alcune respirazioni. In ispira profondamente. Ed ispira dalla bocca. In ispira. Ed ispira. Adesso vai a sollevarti con il busto. E ispirando. Porta le braccia in alto. Guarda leggermente in alto. Ed ispirando. Torna con le braccia lungo il corpo. Complimenti per aver completato questo allenamento insieme. Se la lezione ti è piaciuta. Lasciami un like. Ed iscriviti al mio canale. Se hai domande. Scrivile nel box commenti. Inoltre fammi sapere cosa ti piacerebbe vedere in futuro. Per i prossimi video. Noi ci vediamo presto. Un saluto. Ciao.